buona serata a tutti cari amici sono qui con un secondo e ultimo video per oggi questa volta parlo di basket abbiamo la nota dolente dell'olimpia milano che purtroppo non riesce ad essere continua in eurolega la massima competizione continentale per club le scarpette rosse di goccio messina perdono a tel aviv contro il maccabi per 69 a 63 il punteggio dei periodi 15 21 16 11 21 16 17 15 statistiche alcune statistiche per esempio troviamo con con molti punti vedo qui principalmente i giocatori del maccabi tel aviv wilbekin 22 punti under 14 punti dorsi 13 punti vittoria del maccabi diciamo abbastanza scontata quota tra l'uno e 20 l'uno e 23 statistiche dell'incontro canestri tentati 60 54 canestri realizzati 25 a 22 percentuale al tiro 41 punto 7 il maccabi 40 punto 7 milano percentuale dal tiro da due 47 punto 1 il maccabi 36 punto 7 l'olimpia percentuale dalla dai tre punti 34 punto 6 per il maccabi 45 punto 8 per l'olimpia percentuale diri liberi per i rimbalzi abbiamo rimbalzi totali 36 del maccabi tra cui 7 in attacco e 29 in difesa rimbalzi totali milano 34 29 in difesa e 5 in attacco la classifica vede al momento milano si ancora tra le prime otto ripetiamo però siamo ad un certo punto della stagione di eurolega dove insomma bisogna darsi comunque da fare perché adesso i giochi si stanno facendo più seri più importanti di fatti milano e alla terza sconfitta in cinque partite quindi c'è qualcosa che non va a parte il perfetto equilibrio tra vittoria e sconfitta che sono 10 e 10 ma vi parlo ad oggi che comunque ci sono ben sei partite di eurolega in programma tra cui le prime due mi pare le 18 quindi tra quasi un'oretta circa e sperando per esempio che che non venga la stella rossa quest'oggi però non ci sono scuse è vero che squadre per esempio come real madrid barcellona anche loro stanno racimolando sconfitte possiamo dire per esempio che solo la nadol uefes sembra di un altro livello la stessa CSKA Mosca diciamo che viaggia sempre sui suoi livelli però come si dice ogni anno è diverso dall'altro questo però purtroppo sembra non essere così per Milano che io mi chiedo comunque sicuramente non è facile arrivare alla seconda fase di Eurolega e poi alle final four comunque da italiano la speranza è l'ultima a morire incrociamo le dita che l'Olimpia possa superare a pieno regime questa prima fase entrare tra le prime otto per poi i due gironi e quindi è ovvio però che abbiamo stiamo vedendo anche in Italia per esempio un grande equilibrio perché la stessa Milano anche partita un po' con il freno a mano tirato in campionato lì magari ci sono altre gerarchie comunque saremo a vedere allora speriamo che nella settimana prossima avventura possa tornare a successo la squadra della capitale della moda per fare un'altra un altro paragone e quindi viva lo sport vive il basket nel caso specifico forza l'Olimpia Milano ciao a tutta la prossima ciao 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 ciao